rispetto giustamente ad un taverna che tenta di poter superare il centrocampo ma di fronte a una difesa magica quella del Salerno del Salernum ben costruita la compagine sia dalla presidenza la marca che da mister Galderisi ed ecco che il Salernum continua a rendere e ad offrire uno spettacolo alla grande con passaggi di prima e palla che viene giocata in orizzontale e verticale il lancio di verticale a punto di Minella, tiro finale di Collina e del Rete, il Salernum grande questa azione di gioco un'azione davvero elegante, un'azione tattica, il passaggio di Minella è il numero 10 registra la mente del centrocampo il passaggio di messa laterale per Real Taverna, il lancio in avanti, sfera fermata Real Tavernum che ha difficoltà a penetrare l'area di rigore, Salernum che gestisce il gioco il lancio in verticale, palla a terra per Iacovazzo, guarda Collina, il lancio in profondità per Minella, scusate, il cross in area di rigore ed è l'autogol 2-0, Corbi fa l'autogol e quindi c'è stato un cross, Corbi voleva deviare fuori ma in realtà ha messo la palla in rete Salernum 2, Real Taverna 0, il terzo gol dalla bandierina, Iacovazzo batte di destro vediamo cosa succede, il cross finale Collina, svetta di testa e metta a segno il 3-0 Al Taverna, la palla viene ripresa dalla squadra del Salernum che avanza in verticale il gioco il pallone appunto per Minella, Minella grande giocata ed è il grande gol il quarto gol di questa partita, un grandissimo gol, un gol pregiatissimo ha dribblato un calciatore in velocità e poi ha spiazzato completamente il portiere Cerrato bravissimo Minella, giocatore come ho già detto prima di grandi qualità tecniche un giocatore di grande classe, un giocatore di prestigio, un giocatore di alta qualità batte Minella dal dischetto rete, ed è il 5-0 5-0, una cinquina ed ecco in realtà Averna ci prova, penetra ma poi trova di fronte Valiante ecco ricordiamo Valiante che rappresenta la massima garanzia in porta si riparte con il Salernum in azione, il Salernum vuole in pratica riuscire a effettuare una ancora Iacovazzo, attenzione, tiro finale Iacovazzo davvero alla grande il suo tiro, il suo gol eccezionale, eccellente, l'ho detto già prima i suoi tiri sono omicidiali, Iacovazzo mette a segno in pratica il 6-0 di nuovo in realtà Averna in azione di gioco, tiro finale ribattuto e il Salernum ruba palla, si lancia in profondità, bravissimo Minella che gestisce tutto la regia, il lancio in verticale, il tiro di Del Pizzo è del 7-0 ma non è un'altra, ma è un'altra, ma è un'altra, ma è un'altra